Dopo Cerignola-Nola e Matino-Malfetta al sabato, la domenica del Girone H di Serie D mette in scena un programma ricco di spunti e di potenziali indicazioni per la classifica. Protagonista annunciato dal pomeriggio è il Bitonto, che al Città degli Ulivi ospita il Sorrento per confermarsi nel blocco in vetta al campionato. I neroverdi, a quota 4 punti, puntano a bissare la bella prova di Brindisi, limando quelle sbavature che hanno messo in allarme De Luca nei primi minuti del Fanuzzi. Stavolta arriva un avversario dal valore tecnico superiore, ferito domenica scorsa dal cappare interno contro il Matino. Tre punti obbligatori però per mandare un ulteriore messaggio alla concorrenza. Derby pugliese sulla Murgia, dove il Gravina ha recuperato l'entusiasmo grazie al successo in casa dell'Altamura e si appresta adesso ad ospitare il Biceglie. Nerazzurro stellati nel gruppo di testa, ma la squadra di Rufini è soprattutto l'unica delle venti del Girone H a non aver subito nemmeno un gol. Scardinare la difesa ospite all'obiettivo del giallo-blu, dall'altra parte c'è la convinzione di poter conquistare altri tre punti dopo Casarano. Casarano che invece discena a Nardò nell'altro confronto tutto pugliese della domenica. Rosso-Azzurri ha tre punti dopo il successo di Gravina e la sconfitta contro il Biceglie in casa. Stesso discorso per il Granata dopo la vittoria sull'Altamura e il Cappao di Nola. Aria di riscatto soltanto per una delle due salentine, entrambe però intenzionate ad alzare il livello dopo lo scorso anno. Match complicato per il Fasano, atteso a Lavello contro una delle potenziali big già in testa alla classifica. Le ultime due della classe invece saranno impegnate contro le due campane più attrezzate. Altamura in campo a Caserta per lasciare quota zero punti. Brindisi atteso a Noceve inferiore con lo stesso obiettivo dei Murgiani. Tutti i match in programma alle ore 15, eccezione fatta per Gravina Biceglie alle ore 16.